Continuano le verifiche a tappeto da parte della Polizia Municipale. Già da qualche giorno, infatti, si stanno eseguendo nella città controlli relativi all'accattonaggio, schiamazzi notturni e la verifica dei permessi speciali per la zona in traffico limitato. Ritornerà ad essere presente il telelaser, dove nel mirino cadranno tutti i veicoli che non rispetteranno quanto stabilito dal codice della strada. L'assessore Flavio Moro ci illustra i provvedimenti in corso. Dall'inizio del mandato abbiamo iniziato ad intensificare i controlli sulla città in termini di sicurezza, vista in senso lato, per cui sicurezza stradale e sicurezza dei cittadini. Abbiamo riscontrato a metà del mese di giugno un intensificarsi dell'accattonaggio, che è stato combattuto non tramite ordinanze che poi possono essere anche cassate, ma tramite la vigilanza. In questi giorni abbiamo riscontrato un calo dell'accattonaggio. Rispetto alla sicurezza stradale abbiamo iniziato ad intensificare i controlli, tra i quali anche alcuni con il telelaser. Ci tengo a chiarire che non stiamo tenendo delle imboscate e stiamo valutando anche di rendere pubblica l'attività, annunciando magari all'inizio della settimana su quali strade la Polizia Municipale si attiverà. Questo per far capire ai cittadini che lo scopo è quello di rendere le strade della città più sicure. Per il resto il controllo continua normalmente, sia per quanto riguarda le soste e l'accesso alla zona di traffico limitato, prevalentemente per attivarci prima che i reati vengano commessi. Grazie a tutti.